Buongiorno, sono Andrea Ricci dell'Immobiliare. Oggi ci troviamo a Vinovo, precisamente in via Candiolo 49. Vi facciamo vedere un capannone industriale, quella ai nostre spalle. Ci troviamo all'interno della proprietà. Qui a nostra destra abbiamo una tettoia, questo cortile è in condivisione con l'unità posteriore e questo è l'ingresso del capannone. Si tratta di un'unità da 750 metri produttivi con una cinquantina di metri di uffici che si trovano dietro quella porta. L'immobile è provvisto di diverse attrezzature meccaniche che possono essere utili per un'attività di carpenteria. Abbiamo un carro ponte, una serie di piegatrici, tagliatrici, compressore alle nostre spalle che lavorano sia a metallo che ferro. Nell'altra campata, che non è in questo momento in affitto, abbiamo anche delle piegatrici industriali abbastanza grosse e un ponteggio. Queste attrezzature vengono affittate come ramo d'azienda separatamente a 1.500 euro al mese, mentre il capannone nel suo contesto, che prevede anche questa porzione soppalcata con dei piccoli ripostigli, viene affittata a 2.000 euro al mese, senza IVA. Per maggiori informazioni contattateci.